e me la meraviglia esatto perchè già qui proviamo ad andare nella chiesetta proviamo ad andare nella chiesetta no tieni il k2 mamma mia c'è una puzza di bruciato ragazzi ragazzi non è possibile la voce Grazie. No, andate fuori. Vuoi che andiamo fuori? Come giochiamo? Come giochiamo? Ma in questa chiesetta cosa hanno fatto? Hanno distrutto tutto, hanno vandalizzato tutto. Anche tutti questi simboli cosa sono? Sono riti? Sì. Puoi dire come ti chiami? Chi ti fa del male? Chi ti fa del male? Chi sei? Sei il male? Io? Io? Chi? Chi ti fa del male? Come? Hanno fatto dei riti qui? Chi ti fa del male? Chi ti fa del male? Chi ti fa del male? Chi ti dovrà completo? Demone ha detto, ho sentito il demone, te lo giuro Questo è il demone, allora è un po' il noise E qui Sei qui? Ecco In quanto siete qui dentro? Quindi non ci puoi dire il tuo nome E' da tanto tempo che sei qui E' da molto Conoscevato il Marchesio? I proprietari di questa villa Si è illuminato Si è illuminato Ho detto Marchesio Chi è che ha fatto illuminare quello strumento? Ce lo puoi dire il tuo nome? Il nome Falle illuminare di nuovo, per favore Falle illuminare Ti va? Falle illuminare un'altra volta Lei ci dimostrazione E' così qui Già è illuminato Ti va di dirci il tuo nome Come ti chiami? Mi dici quanti anni hai Almeno Quanti anni hai? Hai tanti anni? Mi puoi dire quanti anni hai? Abitami qui? Abitami qui? No Sì Ma va a uscire Ha detto Napoli Ha detto? Napoli Napoli Cosa c'entra Napoli? Venimi da Napoli? Ti hai detto? Scusa mi ripeti? X Sei già qui da un bel po'? Sei già qui da un bel po'? Sei mio figlio di Merina L'ultimo figlio di Merina Se sì Non mi dà uno strumento C'è Merina qui Melina ci sei? Vuoi parlare con noi? Ti va? Sì Noi sappiamo che Amedeo di Savoia Veniva qui Per il nostro amante È vero? Non ci sento Ah Brillato Si è illuminato Peccato Non sono riuscito a Non ci senti bene? Ho detto Che noi sappiamo Che Amedeo Si è fuori di Savoia Veniva qui Per la sua amante È vero? Selsi Lo fai illuminare Quello strumento Come hai fatto Fino adesso Niente Niente E' sempre E' sempre Quindi E' una scheropanza Per il video Non è bello Che mi fa Ma questa è la casa Casa vostra È la casa tua E' la casa tua Questa Era la tua villa E' la tua villa E su chi sei? Come ti chiami? Renato Ti chiami Renato Sei il figlio di Melina Sei il figlio di Melina Se sì Fagli illuminare Renato 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 mi puoi dire mi senti mi puoi dire quanti anni hai quanti anni non abbiamo capito ripeti ripeti